Partecipiamo di nuovo al Moderna Smart Life perché pensiamo che sia un'occasione importante dove presentare parte dei nostri progetti, quello che noi portiamo avanti come miglioramento della qualità nostra e di un processo di umanizzazione verso la popolazione. Quindi è evidente che in una situazione come la nostra dobbiamo parlare di pronto soccorso e di come si facilita la vita alle persone che vengono all'interno del pronto soccorso, di come si gestisce la malattia cronica in ambito reumatologico, di come si fa attività robotica, chirurgica di eccellenza e come questa viene utilizzata per formare i nuovi chirurghi, i chirurghi dei prossimi anni. Tutto questo insieme serve a far capire che noi lavoriamo innanzitutto in estrema collaborazione e con il volontariato e questo per noi è un punto cardine. La seconda cosa è far capire che questi processi, tutto quello che noi stiamo cercando di fare è legato quasi esclusivamente a un miglioramento di quella che è l'approccio di umanizzazione nostra verso i nostri pazienti. La sintesi è questa. Insisteremo anche dopo il Modena Smart Life proprio per far sì che alcune parti del Policlinico e di Baggiovara stesse possano essere migliorate nell'approccio, nel preso in carico, nel fatto di gestire i nostri pazienti in un modo più umanizzato. Io coordinerò il modulo che in specifico tratterà gli aspetti di collaborazione fra operatori sanitari, pazienti e caregiver. È un aspetto molto importante che approfondiremo perché è un elemento che consideriamo vincente nell'alleanza che si deve costituire fra questi tre ambiti che devono fra loro colloquiare e devono crescere assieme in una consapevolezza che la qualità del servizio è legata alla piena collaborazione e alla comprensione dei rispettivi problemi. Quindi degli operatori che accolgono e assistono, dei pazienti naturalmente che richiedono la nostra assistenza e dei caregiver che devono accompagnare nel percorso i cittadini che necessitano. In particolare noi tratteremo un aspetto specifico che è quello del rapporto che si innesca fra questi tre ambiti in un punto particolare, in un punto critico, nel punto di maggiore contatto e criticità di questo contatto che è il pronto soccorso. Vi è rappresentato un progetto che si chiama Spessa l'attesa che è proprio quello che riguarda un'attenzione che viene rivolta al paziente in attesa. Il paziente che arriva al pronto soccorso e che nel momento nel quale riceve la codifica del proprio bisogno naturalmente viene collocato in un'area che può rischiare di diventare un limbo, un limbo nel quale non si hanno informazioni, nel quale non si conosce qual è il periodo d'attesa. Spessa l'attesa serve proprio a creare un collegamento, a creare un ponte fra ciò che avviene dietro, ciò che avviene da parte degli operatori sanitari e l'attesa, è il momento nel quale il paziente deve attendere la prestazione. Questo come avviene? Avviene in modo abbastanza semplice ma secondo noi molto efficace, aumentando il livello di informazione, utilizzando quel tempo in maniera utile per rendere più facile il momento successivo della presa in carico e rendendo il cittadino, il caregiver che è con lui e che lo assiste, sempre consapevole di quanto sarà l'attesa e di quale sarà l'iter nel quale verrà collocato. Questo fa parte di un progetto più ampio che è quello appunto di, utilizzando il rapporto che noi naturalmente abbiamo con le associazioni, con il comitato consultivo misto che riunisce le associazioni che collaborano con noi, di aprire le porte a una relazione più qualificante e soprattutto più efficace per il cittadino nel rapporto con gli operatori e con la struttura sanitaria. Intanto il Festival Smile Life continua ad essere di altissima qualità e tiene coinvolto l'insieme delle realtà del nostro territorio. La sanità naturalmente è al centro di tante trasformazioni, stiamo facendo attraverso la conferenza territoriale con la partecipazione allargata, lo stiamo facendo con l'utilizzo delle tecnologie in una comunità che per generazioni sta trasformando le esigenze di pezzi di popolazione e quindi bisogna riragionare sulla sanità proprio tenendo conto delle generazioni e dall'altra parte tenere insieme le generazioni, cioè fare comunità. Quindi la cosa che dobbiamo fare è rafforzare le esigenze, la lettura e le soluzioni per garantire una sanità pubblica universalistica, per garantirla nel rispetto delle generazioni che fanno la comunità e dentro l'utilizzo delle tecnologie abilitanti che sono e faranno sempre più la differenza, dall'intelligenza artificiale ai macchinari fino alle connessioni per garantire che su tutto il territorio ci siano le condizioni di una risposta profonda, connessa e funzionale. Purtroppo se questo governo non valorizza la sanità pubblica rischiamo una situazione molto complicata. È un richiamo alla responsabilità anche del governo di tenere conto che senza sanità pubblica ci saranno milioni di persone che rischiano la propria salute, quindi bisogna rafforzare la sanità pubblica universalistica integrata perché questa è la condizione per un welfare di responsabilità. Il nome lo dice Smart Life, abbiamo sempre voluto dare l'idea che fosse la vita che si trasforma a 360 gradi con la tecnologia e con l'evoluzione tecnologica che negli ultimi decenni è stata mai così veloce. Quindi dalla scoperta della ruota l'umanità è stata negli ultimi 30 anni messa davvero in crisi da queste innovazioni continue che però pervadono la nostra vita, dobbiamo cercare di approcciarci a questo fra luce e ombre sapendo che ci sono tante potenzialità ma che ci sono anche molti rischi. E poi ci sono delle storie bellissime come quella per la quale siamo qua oggi, quella della sanità che si apre, che si innova, che si rende social sempre di più e che accompagna il cittadino ad entrare quando ne ha bisogno in questo mondo. Parteciperanno in questa ultima parte della giornata tre chirurghi, oltre alla sottoscritta ci sarà anche il dottor Pierluca Ceccarelli, direttore della chirurgia pediatrica del Polichinico e il dottor Carlo Alboni, responsabile della chirurgia endometriosica ginecologica. e cercheremo di spiegare insieme che cosa significa chirurgia tecnologica, chirurgia robotica e come sia importante formare le nuove generazioni su queste nuove tecnologie. Le nuove tecnologie sono indispensabili oggi, permettono la multidisciplinarietà, permettono di risolvere casi che un tempo si potevano risolvere solo aprendo un addome. Oggi permettono invece di risolvere dei quadri molto complessi nell'adulto e nel bambino. E quindi vedremo di spiegare alla popolazione che cosa significa essere operati da un robot. Cercheremo di spiegare che non bisogna temere la tecnologia, ma bisogna auspicare che anche una sanità pubblica come la nostra di eccellenza si possa usufruire di queste tecnologie totalmente avanzate. E poi cercheremo anche di spiegare come formare i chirurghi con queste nuove tecnologie. La formazione in chirurgia è una formazione difficile, è una formazione che richiede impegno, richiede la precisione, richiede il non commettere errori anche durante la formazione e grazie anche all'ausilio di tante tecnologie di cui abbiamo disposizione, tra cui anche la possibilità di operare con una doppia console, quindi come a scuola guida, usufruire dei simulatori, usufruire di tante possibilità che proprio oggi la tecnologia ci fornisce. Quindi vi aspettiamo sabato. Amerer, sostegno malati reumatici, lavora con la reumatologia del Policlinico del territorio di Modena per creare opportunità e servizi per i pazienti con patologie croniche reumatologiche. Facciamo tantissime attività, dalla informazione alla creazione di opportunità per i pazienti, per esempio corsi di idrochinesi terapia e percorsi per la gestione del dolore cronico, in collaborazione sempre col Servizio Sanitario Nazionale. Il valore della collaborazione col Servizio Pubblico è quello di creare appunto una valorizzazione del ruolo dei clinici e avvicinarli alla popolazione.